Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee e buon 2022 ragazzi! Benvenuti nel nuovo anno, auguri di anno nuovo, grazie per avermi seguito in questo 2021 appunto dove mi sono trasferita a Tokyo in Giappone, grazie per il vostro supporto e grazie per essere iscritti e seguire American Coffee Travel. Veramente, grazie a tutti, siete una comunità fantastica, lo so che i miei video fanno schifo e grazie per seguirmi, ma spero che la qualità dei miei video non è il massimo è fatta con un iPhone 7 che dovrò cambiare perché sta morendo ragazzi quindi questo è il mio progetto del 2022, salvare ancora più soldi e lavorare ancora di più per comprare un nuovo iPhone perché mi serve veramente, la batteria sta proprio andando questo iPhone è di seconda mano e l'ho comprato in seconda mano nel 2016 quindi questo telefono è già vecchissimo quindi ragazzi, grazie per seguire i miei video di scarsa qualità che però hanno un sacco, secondo me, di argomenti e di cose interessanti che tanta gente non fa vedere appunto so, in questi mesi ragazzi, cosa ne pensate dei capelli? avete visto il video dove mi sono rasata? credo che adesso la lunghezza dei capelli sia molto molto bella mi piace un sacco, fino a che non arrivo al punto dove metto gli occhiali e la mascherina dove questa parte mi dà veramente un sacco fastidio e poi anche la cuffia quindi diventa tutto uno schifo completo per l'inizio di quest'anno ho pensato di farvi vedere uno dei regali che mi hanno appunto dato a Natale i giapponesi vi faranno un sacco di regali, di solito vi nutrono un sacco quindi vi all'anno del cibo a parte quando sono stata io con la mia host family per sei mesi a Tokyo dove morivo di fame perché non avevamo cibo in casa ma generalmente i giapponesi tendono a dare tanti regali connessi con il cibo quindi questi sono i regali principali che si fanno in Giappone sono questi box appunto con cibo, snack o chi più ne ha più ne metta, bibite e quindi questo è il mio regalo di Natale e volevo aprirlo con voi ragazzi questo negozio si chiama Soup Stock ed è un negozio appunto che serve carry che non ho mai provato e volevo appunto provare ce n'è uno alla stazione di Shinjuku vicino a casa mia e l'ho visto ma non ero mai entrata prima d'ora ma ho visto che sembrava delizioso e quindi mi hanno regalato appunto una scatola gigante ragazzi è pesantissima, è veramente un regalo grandissimo guardate qua questa scatola era chiusa con una carta molto molto carina che ho appeso al muro così alla cavolo con appunto il scotch alato ragazzi ma l'ho trovata molto carina e ci ho messo un po' di colorazione perché la mia camera è molto molto statica e bianca quindi ho pensato oh guarda che carino mettiamoci un po' di rosso che è il mio colore preferito per questo nuovo anno ho pensato di fare qualcosa di interattivo appunto con voi e quindi andate sotto c'è un link e nel link potete trovare tutti i tipi di carry che ci sono in questo box potrete votare quello che volete che io provi e cercherò di provarlo in diretto se riesco ragazzi sapete che lavoro 7 su 7 quindi probabilmente non potrà succedere o lo proverò e lo metterò in un video appunto il carry che voi avete scelto da questo box apriamo guardate ragazzi che splendore questo box di carry istantaneo ragazzi ebbene sì guardate qua ci sono all'interno ci sono 3 da qua e 3 di là sono 6 confezioni diversi di carry istantaneo in busta guardate qua si possono fare nel microonde oppure li potete mettere semplicemente nell'acqua questo tipo di carry già pronti in bustina così sono molto molto popolari in Giappone li troverete in qualsiasi supermercato e questo viene da questo negozio appunto che si chiama Soup Stock ed è sono emozionatissima ragazzi guardate qua ne abbiamo di tanti tipi ogni confezione mi dice quanto è piccante come vedete ce ne sono veramente di tutti tutti i tipi guardate il design è magnifico secondo me guardate che magnifico design molto molto semplice proprio con il cerchio le confezioni sono fatte benissimo ragazzi guardate che bello tutto questo design grafico semplicissimo c'è sempre l'inglese come vedete qui a lato e veramente questa confezione sono fatte magnifiche e sono emozionatissima è stato un regalo di Natale magnifico quando l'ho visto sono rimasta quasi piacevo ragazzi lacrimucce vediamo un po' le confezioni nello specifico questo è un mild kima carry with corn quindi è un kima carry non piccante con appunto il mais il kima carry è un carry indiano fatto con appunto carne tritate verdure tritate e spezie è diventato molto molto popolare in Giappone negli ultimi anni e appunto questo è quanto dopo abbiamo oh questo sembra delizioso questo è fatto con composte chutney sapete che cos'è il chutney? sono tipo è una piccola salsina di verdure e ho frutta tritatina so c'è chutney al mango ed è un po' come una marmellata con pezzettini di frutta quasi so quindi chutney di fico e un kima carry e questo è appunto un po' piccante poi abbiamo un carry alle cipolle e successivamente oh Sri Lanka Sri Lanka style quail egg carry fatto con e ci sono dentro le uove di quaglia quindi quelle piccoline avete mai mangiato le uove di quaglia? se non le avete mai mangiate votate questo così potete vedere come sono ragazzi so e successivamente un altro carry kima non piccante con appunto il bambù quindi questo qua e questo è un semplicissimo butter chicken carry so anche questo è un piatto indiano un butter chicken quindi con il pollo questo di solito è abbastanza un sapore che mi piace molto di solito scarto il pollo ma mi piace tantissimo la salsa del butter chicken quindi ragazzi andate sotto ruotate troverete le fotine con appunto la traduzione di quello che c'è dentro e ruotate quello che voi volete che io provi cioè praticamente quello che voi volete mangiare che volete che io provi per voi quindi andate sotto votate ragazzi veramente buon anno buone feste per voi io invece oggi è il 31 ragazzi e inizierò alle 6 di fare un lavoro e al mezzanotte in punto inizierò il mio lavoro la notte in fabbrica quindi voi passate un buon anno ragazzi buone feste e ci vediamo alla prossima continuate a seguire American Coffee Travel ciao ciao caffè cappuccini e carry ciao